George, reggiti! Iiii! Oddio! Cosa sta succedendo? Papà Pig! È un terremoto! Aiuto, aiuto! Chase, la casa di Peppa è distrutta! Vieni subito qui! Peppa, aspetta un attimo! Siamo qui! Peppa, devo esaminarvi! Non ci sono fratture, come ti senti? Sono a posto! Sono solo molto spaventata! George! George! Sono qui! E' rimasto qualcuno dentro la casa! Papà! Dormiva al secondo piano! Qui non c'è nessuno! Nessuno! Portiamo via le macerie! Chase, ho trovato Bobbo Pig! Sembra essere svenuto! Mmm, che c'è? Oh, la mia gamba! Sembra una frattura! Poteva andare peggio! Sistemiamo la casa! Sistemiamo la casa! Sistemiamo la casa! Sistemiamo la casa! grazie siete bravi grazie mille prego dobbiamo andare via dobbiamo sistemare le altre case guarisci presto Babbo Pig